ciao grande no vabbè che è successo no 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 vabbè no va beh ma che c'hai no 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 non puoi capire non puoi capire una roba assurda ma che dici no tanto se te la dico non ci credi sì ma dimmela però ho trovato la pistola più veloce dell'west no non ci credo ok te la faccio vedere dal 2011 anno in cui Sara ha cominciato a farmi da meccanico abbiamo cambiato 5 pistole di rifornimento 5 fino ad arrivare a questa questa era una delle pochissime certezze che avevamo nel reparto pit stop fino a qualche giorno fa queste certezze sono state totalmente spazzate via da un prodotto che vi presenterò tra pochissimo che ha veramente dell'incredibile diciamo che se io vi domandassi la caratteristica più importante che una pistola di rifornimento dovrebbe avere tutti voi o la maggior parte di voi mi direbbero sicuramente la velocità perché è ovvio stiamo facendo un pit stop si cerca sempre di essere più veloci e quindi di guadagnare anche nel pit stop in realtà io potrei stupirvi dicendovi che secondo me la caratteristica più importante per una pistola di rifornimento è la certezza del pieno cioè che il meccanico sia sicuro quando poggia la macchina per terra e fa uscire il pilota dai box che il serbatoio sia sicuramente pieno al cento per cento seguendo questo principio abbiamo scelto una pistola come questa che non è estremamente veloce ma che dà passare le sicurezze necessarie per quanto riguarda l'argomento della sicurezza del pieno fast fuel gun quali sono le caratteristiche di questa pistola di rifornimento allora intanto per cominciare è una pistola verticale quindi non è una pistola con impugnatura classica ma una pistola verticale però esiste in due versioni esiste nella versione verticale e la stessa si può convertire girando il canotto e montando l'altro manico nella versione classica a pistola unica sul mercato a poter essere convertibile nei due sistemi è totalmente made in italy e questo è già una buona notizia da dare in quanto in quest'ultimo periodo ci sentiamo un po tutti di dover seguire un po di più il made in italy ha doppio r di tenuta per quanto riguarda il serbatoio trasparente ed ha quattro viti per lato messe longitudinalmente per il verso della pistola quindi non ci sono viti di traverso la maggior parte delle altre pistole compreso quella che avevamo noi in precedenza avevano le viti messe di traverso due o quattro questo porta sicuramente ad avere meno stabilità nel tempo e se vedete la pistola che stavo usando si stava già cominciando a deformare tutti i materiali sono fatti per durare nel tempo quindi materiali studiati appositamente per durare nel tempo ha un foro di uscita di diametro 13,7 e la mia vecchia pistola ad esempio l'aveva di 12,8 questo vuol dire tanto e non vuol dire niente perché bisogna anche capire che velocizzare troppo una pistola nel mondo del modellismo per come sono fatti strutturalmente i serbatoi può essere addirittura controproducente perché perché possono esserci delle situazioni nelle quali la miscela scende talmente forte forte che rimbalzando sul fondo del serbatoio in pratica una parete viene viene respinta quindi torna indietro e ostruisce i fori di depressione e quindi va a far diciamo tra virgolette credere al meccanismo della pistola che il serbatoio sia pieno quando invece non lo è qua ci sono dei concetti che veramente abbiamo visto raramente nelle pistole per esempio le classiche canette che ci sono per il recupero dell'aria qua sono sostituite da due cavità ovali che poi confluiscano in una sola all'interno e in cima sono stati messi due filtri per evitare appunto che la miscela scendendo troppo velocemente vada a rimbalzare sul fondo del serbatoio e torna indietro creando quella diciamo illusione di pieno e quindi facendo fermare il getto in discesa è una pistola che contiene 210 ml al suo interno la mia vecchia pistola era marchiata 200 ma facendo la prova io non l'avevo mai fatta facendo la prova del di quanta miscela realmente ci sta dentro probabilmente non arriviamo neanche a 180 ml questa sono 200 ml reali a la scala rovescia quindi praticamente parte dallo zero e arriva al 140 i 210 ml si fanno con la parte successiva della pistola perché chiaramente dentro è cava quindi praticamente se viene riempita allo zero ogni volta che si fa un pieno si sa esattamente quanta miscela ha consumato durante quel pieno perché per esempio se io parto dallo zero e faccio un pieno e vedo che appena finisco il pieno la mia pistola è a 100 ml vuol dire che io ho consumato 100 ml quindi rapida lettura facilmente intuibile e caratteristiche veramente top perché è importante la capacità della pistola appunto ho menzionato i 210 ml che può contenere questa pistola perché più miscela contiene la pistola e più sarà veloce nel processo del pieno quindi ipoteticamente avendo una pistola da 5 litri sicuramente siamo più veloci che con una pistola da 130 cc quindi un minimo in più del comporto rispetto al nostro serbatoio quindi si vede anche dal diametro questa è abbastanza massiccia rispetto alle altre pistole e altre caratteristiche molto importanti sono quella di non avere il tappo a molla ma di avere il tappo in posizione fissa e di non avere le solite catenelle come può accadere per altri tipologi di pistole che poi alla fine si rompano anche come è successo anche a me con la vecchia pistola inoltre all'interno del foro di immissione della della miscela all'interno della pistola le la parte diciamo delle canette che qui sono come ripeto un singolo tubo vale dove prende aria la pistola è coperto quindi non si rischia mai di diciamo qualche goccia di miscela possa finire anche all'interno delle canette e quindi che durante la fase di pieno simuli appunto il pieno e quindi non entri aria a sufficienza per quanto la realtà per quanto la miscela sta uscendo quindi questa è una caratteristica importantissima questa è stata sviluppata da pirani che come voi sapete sono veramente veramente tantissimo tempo che sta lavorando su questa pistola e come voi sapete pirani come categoria principale fa on road e con non ruota si fanno i pieni ogni 4 4 minuti e mezzo quindi voi immaginatevi che su una finale da 45 minuti ne fanno praticamente quasi il doppio di noi e quindi per loro è molto importante riuscire ad avere una pistola che faccia bene il suo dovere e che veramente ti porti un vantaggio oltre a tutto questo la pistola è anche molto 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 veloce e un confronto in modo che vi potete veramente rendere conto della differenza di velocità che c'è per esempio tra la pistola che usavamo noi in precedenza e questa con chioscio abbiamo sempre riscontrato un problema con le pistole cioè praticamente durante la fase del pieno non si è mai capito perché addirittura Sara ci ha studiato anche qualche pomeriggio con altri meccanici molto blasonati del panorama del modellismo offroad rc hanno provato a fare anche delle modifiche anche non su questa ma addirittura anche sulla precedente pistola ma in pratica c'è il problema che l'ultimo pezzetto e quindi l'ultima parte del serbatoio che oscio è veramente veramente lenta a riempirsi con tutte le pistole questa è stata l'unica pistola che su chioscio non genera il problema dell'ultimo pezzetto lento a riempirsi sarà perché ha questa forma veramente particolare nella parte dell'imbocco all'interno del serbatoio ma poi vedrete nella fase del pieno che questo problema sparisce vedrete adesso la prova pratica e credetemi vi stupirete veramente allora come vedete sono stati messi 400 ml nel riempitore per la pistola che usavamo fino all'anno scorso ed è stata riempita fino alla linea del 200 ml adesso mettiamo il tappo vedete 200 ml quindi linea precisa dove è segnalato 200 ml in realtà come vedete il riempitore non ha scaricato i 200 ml che dovrebbero essere andati nella pistola ma in realtà siamo un po più alti della linea del 200 quindi riempiamo di nuovo a 400 ml per riempire la fast for gun e riempiamo alla linea dello zero che abbiamo detto dovrebbe essere circa 210 ml infatti come vedete riempitore è sceso sotto la linea dei 200 adesso vediamo il confronto a velocità normale non vi fate ingannare dalla dall'apertura dei tappi io ho messo esattamente in pari il momento in cui premono il grilletto delle due pistole guardatelo adesso è rallentatore che si vede veramente bene guardate ecco e ho stoppato la la pro il conteggio dei fotogrammi una volta che la miscela ha smesso di entrare notate anche come il serbatoio riempito con la fast for gun sia più pieno rispetto all'altro serbatoio bene spero di esserti stato utile con questa recensione per qualunque dubbio chiarimento può contattarmi su facebook sulla mia pagina fabrizio teghesi rc oppure scrivendo qua nei commenti su youtube oppure attraverso il mio sito internet www.fabrizio teghesi.com ciao a presto